Era gola? Eh, e l'acqua cotta... Era tutta, era al cibo rosa. Ma ci sono tutti la cibo rosa. E' una trista quella... Ma, mai, se faceva. Si faceva però chi ti ha comprato e ti dava i soldi. Carà? Ma, chi lo chiamava proprio? Ma io? Non c'è il cibo rosa. Non c'è il cibo rosa. Erano tristi. Quello che devi aver aiutato! Ma io ci lasci fuori al cibo rosa. Oh, no, è cresciuta! ho fatto la quacotta oggi, una maniata la maniata si, una buona buona ci mettevo l'ovetto perchè era qualche gallinella che le aveva sempre e dentro la quacotta ci mettevamo questo vetto che ci dava un po' di sostanza ci dava un po' di sostanza, se no sempre erba erba, che ti dava? è vera questa cosa? e come no? è vera ci crediamo ho sentito i raschi 12 avevo fatto un po' un po' di casino